Ciao Massimo, senti ma quanto vive un estintore? Ciao Claudio, un estintore vive 18 anni 18 anni? Caspita, quasi tutta la vita scolastica di una persona Sì, 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 non finisce mai purtroppo Senti ma per vivere 18 anni avrà delle verifiche periodiche di controlli ogni tanto da fare, giusto? Certamente, per essere sicuri che funziona bisogna fare diverse cose Bisogna fare il controllo semestrale la cosa più importante Il controllo semestrale è come quando arriva ragazzina in un ufficio, se lo porta su in furgone Sparisce per un quarto d'ora e poi torna magicamente a posto? Certo, con la sola imposizione delle mani si fa la manutenzione Ecco, poi Poi bisogna fare la sostituzione dell'agente estinguente Il cambio polvere? Il cambio polvere Dopo tre anni Ok Dopodiché si fa il collaudo del contenitore o della bomba Il collaudo, sì Dopo quanto tempo si fa il collaudo? O 10 o 12 anni Ma lì lo compri nuovo? Sì, sì Perché ormai costa di meno l'estintore che collaudarlo Sì, sì, infatti non si collaudano Ci sono solo alcuni estintori che si collaudano perché c'è la convenienza L'estintore di CO2 che sono bombole Si collaudano perché costa ancora meno Ok Ma l'estintore a polvere si cambia Quindi, riavvolgendo, dura più o meno 18 anni Ogni sei mesi si fa il controllo semestrale Dopo tre anni si fa il cambio polvere in caso delle polveri Dopo 10-12 anni si ricollauda Esatto Claudio Ok, ciao 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 Grazie a tutti